Noi, fragili e spaventati, ci siamo affidati a voi. Grazie alla vostra umanità e professionalità ci avete restituito la gioia di vivere, perché così noi dobbiamo la vita loro. Un attestato ed una maglia bianca, un gesto simbolico ma carico di significato, così gli ex pazienti Covid hanno deciso di ringraziare i loro eroi, i sanitari dell'ospedale San Donato di Arezzo. La loro testimonianza non è stata volta esclusivamente al sottolineare l'efficacia delle cure, al sottolineare il fatto che nonostante questa malattia terribile loro sono riusciti a guarire e a guarire anche molto bene, perché sono tutti in estrema forma. Ma la loro testimonianza è anche all'umanità, alla vicinanza che i nostri professionisti hanno garantito loro in un momento davvero buio e difficile e hanno garantito anche quel rapporto in un certo senso familiare che a loro mancava necessariamente visto l'isolamento. Dopo i giorni infernali, a causa della malattia nell'adegenza Covid, la rinascita ed adesso il grazie a chi gli ha salvato la vita. Hanno salvato la vita. Ogni mattina quando mi alzo dico grazie. Un grazie che dà anche nuova forza a chi ormai da un anno ogni giorno si trova in prima linea nella lotta contro il Covid. Ci fa andare avanti perché se noi ci soffermassimo su quello che è la fatica fisica, sarebbe tanto tempo che ci saremmo fermati. È dunque un messaggio di speranza quello che parte oggi dall'ospedale, ma anche un appello all'attenzione da parte di chi ha vissuto sulla propria pelle l'incubo del virus. Bisogna stare attenti, questo è sicuro, niente viene per caso, quindi stare attenti. L'attenzione sì, ma la paura, la paura qui non c'entra, la paura non deve entrare.